vediamo adesso la traccia numero 2 quella su Dante che hanno fatto solo Michele e Nicolò allora la traccia secondo me era un pochino più semplice rispetto alle altre in quanto era più semplice fare l'analisi e anche c'era poche più note allora vediamo innanzitutto sintetizza i temi principali del brano proposto tenendo presente qui vi ho dato indicazione che Dante incontra Nicolò III che era morto nell'80 punito in quanto simoniaco quindi vi davo la ragione per cui questa persona era all'inferno cioè per il fatto di aver commerciato cose sacre in particolare l'accesso o meno al purgatorio il paradiso si pentiva, dava dei soldi e poi dopo gli veniva data la soluzione di tutti i peccati la traccia vi dà praticamente la divisione in sequenze voi dovreste, e io vi avevo dato come elemento, dovreste analizzare almeno i primi versi in cui in particolare vi si dà la contestualizzazione e poi l'episodio principale chiaramente comincia al verso 46 la parte iniziale dice chi è colui maestro, quindi è Dante che chiede, che si cruccia, quindi che ha dolore guizzando, cioè muovendosi più degli altri, suoi compagni, ora perché si guizza probabilmente dal punto di vista simbolico è perché diciamo sta soffrendo più degli altri dissi io, e quindi probabilmente era più colpevole a cui più roggia al quale, il quale chiaramente perché qui in questo caso sarà complemento oggetto la fiamma succhia più rossa, notate che dice succhia, cioè è un termine abbastanza basso più rossa, quindi diciamo non solo si muove di più perché ha più dolore ma la fiamma quindi diciamo la punizione è più grave nei confronti di questa persona e Dante si sorprende ed egli a me, se tu vuoi che io ti porti laggiù per quella riva che giace più in basso ovviamente loro sono in alto, dice Virgilio da lui saprai di sé e dei suoi errori questa parte del testo praticamente vi dava non solo i temi principali ma la contestualizzazione che io avrei messo nel cappello introduttivo al tema andiamo diciamo al punto 2 i versi 46 e 48 descrivono la posizione assunta da Nicolò III che cosa si intende con il su tiensotto e in che senso quest'anima è come palcommessa ora cosa dice o chi tu sei che il di sotto cioè le gambe chiaramente e il di sopra, cioè la testa tieni di sotto cioè la testa tieni verso il basso e quindi le gambe tieni verso l'alto come abbiamo probabilmente capito allora si capisce perché dice guizzando perché le gambe si muovono molto più della testa anima triste ficcata nel terreno come un palo la cui punta chiaramente non sono le gambe ma la testa sentite quanto è basso il registro linguistico comincia io a dire se puoi fare motto cioè se puoi parlare questo perché? perché chiaramente avendo la testa conficcata nel terreno probabilmente Dante si chiede ma riesce a parlare il dannato sezione 3 diciamo perché Nicolò III guizza più degli altri? quale parte del suo corpo la fiamma succia? io vi ho messo questa sezione dopo perché chiaramente voi avevate qualche difficoltà a comprendere senza sapere come era messo il dannato allora guizza più degli altri presumibilmente perché è più colpevole degli altri cioè si muove più degli altri e la fiamma più rossa vuol dire che la sua punizione è superiore e questa cosa ha attirato l'attenzione al didi di Dante per quale ragione? Nicolò ripete l'espressione sei tu già costirito e chi è Bonifazio? spiega l'espressione di parecchi anni in ventilo scritto al verso 54 tenendo presente che Bonifazio morì nel 1303 ora qui davo per scontato che voi vi ricordaste che fosse Bonifazio VIII facciamo la parafrasi ed egli gridò sei già così tu ritto stai così già ritto lì probabilmente pronto a prendere il mio posto perché probabilmente arrivando alla nuova anima sostituirebbe in quella posizione lì Nicolò probabilmente Nicolò buttandolo verso il basso glielo ripete probabilmente perché è colpito o perché c'ha fretta non so perché è sconvolto da questa nuova apparizione sei tu già costirito Bonifazio quindi probabilmente è l'impressione psicologica di Nicolò che dice oddio oddio come mai cosa è successo notate anche qui il registro linguistico non particolarmente altro di parecchi anni mi ha mentito lo scritto ora qui non è un vero e proprio scritto è come se ci fosse all'interno della testa di Nicolò tutta la prefigurazione di ciò che avverrà nel futuro sapete che le anime nell'inferno si sanno che cosa avverrà nel futuro allora lui ha detto ma accidenti quello che io sapevo che sarebbe avvenuto è errato di qualche anno perché oggi siamo nel 1300 dal momento che Dante immagina il suo viaggio nel 1300 e invece accidenti lui sapeva che Bonifazio sarebbe morto tre anni dopo quindi dice accidenti sei già arrivato qua ma che ci fai qua no? sei arrivato un po' in anticipo sei tu così tosto di quella Versazio e ora qui mi sto già passando la seconda parte sì ok del passo cambiamo quindi siamo al punto 5 spiega il senso dei versi 45-57 di che cosa Nicolò accusa Bonifaccio sei tu così presto sazio di quella verre cioè di quella di quei guadagni in realtà per il quale non temesti non hai avuto paura di ingannare torre ad ingarno ingannare la bella donna che sarebbe la chiesa e poi di farne strazzo cioè di straziarla di rovinarla di distruggerla e quindi lo accusa di di che cosa lo accusa di avere di essere molto desideroso di beni materiali di rubare praticamente usando diciamo le indulgenze vendendo le indulgenze e quindi di guadagnare e facendo così di ingannare la chiesa perché chiaramente il commercio di indulgenze era qualcosa di non moralmente particolarmente accettabile e poi di farne strazio perché hai rovinato la chiesa tu Bonifacio ricordatevi che Bonifacio aveva una posizione teocratica per cui l'unica cosa che sperava era diciamo di porre il potere della chiesa sopra il potere dell'impero e degli altri stati è la persona che ha cacciato Dante da Firenze ora vediamo il punto 6 analizza e giustifica le scelte lessicali compiute dal poeta che stile adotta in questi versi fai riferimento a succia a pal commessa e a tu sei costirito ti pare uno stile adeguato alla figura qui rappresentata ora la figura rappresentata qui è un papa e il papa si esprime in modo alto perché è un potente è una persona spesso anche di alta calatura intellettuale e questa persona si dice succhia la fiamma succhia e tu Dante lo rappresenta come un palo ficcato per terra e poi anche le espressioni tu sei già costirito non è particolarmente alta tra l'altro è un'espressione che ancora si usa in Toscana costirito è proprio una cosa di lessico grosso modo colloquiale ora qui siamo a livello di stili ricordate quando ve l'ho spiegato tra il comico e l'elegiaco succe commessa sembra legiaco costirito potremmo chiamarlo comico cioè livello medio-basso e quindi la rappresentazione è di grosso contrasto tra la figura del papa e come si esprime e come si atteggia guizza quasi come un serpente insomma ok quindi diciamo la figura viene messa in maniera bestiale che non è adeguata alla sua figura alla base di tutto ciò noi votevate fare l'analisi cioè il passo sfrutta tematicamente l'oro di Nicolò cioè quello di aver creduto che Dante fosse Bonifacio che pensa che Bonifacio sia giunto prima del previsto all'inferno perché immagina ciò la ragione fondamentale è che Dante vuole dire che Bonifacio andrà all'inferno chiaramente l'inferno è stato scritto dopo il 1303 1306 5 8 10 ma sapete che non abbiamo perfettamente coscienza delle date però sicuramente l'ha scritto dopo il 1303 allora lui sapeva che era morto e voleva mandarlo all'inferno come fa a farlo visto che lui è ambientato la Divina Commedia nel 1303 gioca su questo errore partendo dai versi qui proposti espone la posizione di Dante nei confronti del papato ricordatevi che Dante era un guelfo bianco ma proprio perché è stato buttato fuori dai guelfi neri e per diciamo volontà di Bonifacio VIII Dante Dante non aveva una posizione così gentile nei confronti del papato tanto è vero che poi dopo verrà definito da foscologhi bell'infuggiasto benché fosse un guelfo bianco ve l'ho ricordato io nella Commedia il poeta pare sovente cioè spesso parteggiare per l'impero l'abbiamo visto più volte in realtà io ve l'ho spiegato soprattutto poi con il De Monarchia la cosa si vede molto molto bene nel proseguo della Commedia però è una cosa che si vede cioè che i papi non vengano trattati molto bene i chierici non sono un granché ricordatevi cosa dice per esempio di Guido da Montefeltro che il papa fa di tutto per ingannarlo insomma la figura non è tanto positiva dei papi non di un papa in particolare a questo proposito fa riferimento a quanto il poeta dice nel De Monarchia vi ricordate in De Monarchia c'è la teoria dei due soli non è che il papa è il sole e l'impero è la luna cioè il potere temporale non è un rispecchiamento del potere spirituale non viene da Dio ma sono due cose che sono separate e sono separate perché Dio ha scelto di far nascere Gesù questo lo dice e ve lo ricordate nei primissimi canti primo, secondo e terzo i primi canti introduttivi in cui in particolare nel terzo quando ci sono i dubbi di Dante gli dice attenzione guarda che Gesù è voluto nascere durante l'impero quindi se è così l'impero è una cosa necessaria perché è voluta da Dio e quindi sono due istituzioni in realtà importanti e complementari perché il papato si occupa della città degli dè e di Dio cioè la cura delle anime nella salvezza eterna mentre l'impero si occuperebbe della salvezza del bene degli esseri umani sulla terra e le due cose sono importanti entrambe in quali altri passi Dante ha centri di critica nei confronti della chiesa almeno due in realtà però ogni tanto lui ficca delle persone diciamo di chiesa tra i lussuriosi li mette voi non l'avete letto ma diciamo tra i sodomiti ci sono un sacco di chierici e poi vabbè quello che dicevo prima l'episodio di Guido da Montefeltro è abbastanza evidente è il Papa che inganna proprio giocando sulla simonia ma soprattutto c'è anche Celestino V il canto degli gnavi in cui si viene detto che Celestino V aveva fatto il gran rifiuto quindi una visione sempre negativa del Papa e per questo che poi Foscolo e qui io l'avrei forse citato lo chiama la fine di Bellin Fuggiasco grazie a tutti